Non è solo una nuova stagione ma la cinquantesima dell'istituzione sinfonica abruzzese, una grande festa della musica che prevede 24 appuntamenti da ottobre ad aprile che vedranno i professori dell'ISA impegnati in programmi che spaziano dal grande repertorio sinfonico a brani di raro ascolto oltre ad opere in prima assoluta. In programma c'è davvero tanto jazz, classiche e pop, un cartellone firmato come sempre dal direttore artistico Ettore Pellegrino. La nostra cinquantesima stagione festeggiamo 50 anni di attività. La stagione si aprirà il 26 di ottobre con un programma sacro dedicato alla messa di Puccini e poi proseguirà fino ad aprile con moltissimi appuntamenti che abbracciano molti generi musicali per cui andiamo dal classico più classico. Abbiamo dei solisti di eccezionale fama e bravura come Albert Mayer, primo obo dei Berliner Philharmoniker, forse uno dei più grandi oboisti del mondo, Enrico Dindo, violoncellista vincitore del primo Tchaikovsky, Lorenzo Passerini, un giovanissimo direttore con un nome già internazionale. Per cui partendo da loro, passando per Gabriele Mirabassi che è un grande jazzista che farà un programma dedicato a Jobim o il crossover in generale e chiuderemo con un bellissimo programma sacro dedicato a Rossini. L'ISA intanto ha rinnovato il proprio CDA, confermando Tullio Buzzelli e Paola Spezzaferri, ai quali si aggiungono Alberto Mazzocco e Paola Bellisari, che lavoreranno per quattro anni con il presidente Bruno Carioti, come sempre c'è il problema degli spazi, che non permette ancora di abbracciare un pubblico più numeroso e quindi anche l'ISA strizza l'occhio alla riapertura del comunale quanto prima. Tutti i guai che questa città ha passato, per cui dobbiamo pazientare, sperando di riavere il nostro teatro comunale e dare la possibilità a più persone di questa città di usufruire di tutta la cultura, non solo per l'istituzione sinfonica abruzzese, il teatro come grande contenitore culturale per tutte le istituzioni che abbiamo su questo territorio.